Battaglia vinta per i residenti di Ponte Galeria. Dopo mesi di esposte e denunce, finalmente il Comune di Roma, a seguito di un sopralluogo effettuato il 24 settembre scorso, ha diffidato il Consorzio affinché proceda con la massima urgenza a ripristinare la funzionalità dell'impianto di sollevamento per garantire il corretto deflusso dei reflui nella fognatura pubblica e scongiurare possibili danni ambientali. Si chiede inoltre, si legge nella nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di garantire la vigilanza dell'impianto e delle recinzioni perimetrali, attualmente prive di chiusura. In caso di inadempienza, il Comune inoltre annuncia che provvederà ad avviare procedimenti di esecuzione in danno al Consorzio di Ponte Galeria. Una bella soddisfazione per gli abitanti della zona e per il locale comitato di quartiere, che nei mesi scorsi avevano presentato una denuncia in procura per danno ambientale. Grazie. Grazie.